Ciao a tutti! Oggi prepareremo le frittelline di ricotta dolci. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 10 minuti. Gli ingredienti sono ricotta, farina doppio zero, lievito per dolci, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale, vanillina, uova, la buccia del limone e zucchero semolato. I quantitativi e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale la buccia del limone e lo zucchero e li andiamo a polverizzare per 20 secondi a velocità 10. finiamo sul fondo con la spatola. adesso andiamo ad aggiungere la farfalla. Mettiamo le uova. la ricotta e andiamo ad amalgamare il tutto per tre minuti. a velocità 3 e mezzo. Adesso andiamo a rimuovere la farfalla. andiamo ad aggiungere la farina, il lievito per dolci. la vanillina, il succo di limone e il pizzico di sale. andiamo ad amalgamare il tutto per un minuto a velocità 5. Il nostro impasto è pronto. Adesso andremo a riscaldare in una padella l'olio di semi. Verseremo l'impasto della ricotta a cucchiaiate nella padella e cuoceremo per circa tre minuti, rigirando di tanto in tanto, finché le frittelline saranno ben dorate. Frittelline di ricotta dolci. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi